Prenderà possesso della chiesa parrocchiale Santa Maria dell'Idria di Biancavilla domenica 30 giugno il neoparroco Don Giovambattista Zappalà. La celebrazione eucaristica sarà ufficiata dal vicario generale della diocesi di Catania, Monsignor Salvatore Genchi. Alla Santa Messa che si terrà alle ore 19 nella chiesa del monastero Santa Chiara, poiché la chiesa dell'Idria al momento è chiusa a causa dei danni subiti dal terremoto dello scorso ottobre, prenderanno parte le comunità parrocchiali, la confraternita Santa Maria dell'Idria, il sindaco Antonio Bonanno, i parenti e gli amici di Don Zappalà. Lo ricordiamo Don Giovambattista Zappalà che è anche vicario foranio del XIII vicariato che comprende Biancavilla Santa Maria di Ligoddia, è stato nominato parroco della chiesa dell'Idria dall'arcivescovo di Catania Monsignor Salvatore Cristina e lo ha annunciato pubblicamente durante la festa della Pentecoste dei Gioveni domenica scorsa. Subentra così a Don Salvatore Nicoletti, parroco della chiesa per ben 35 anni e che si appresta alla conclusione del suo mandato pastorale per sovraggiunti limiti di età, 75 anni, con la processione del Corpus Domini parrocchiale che si terrà giovedì 27 giugno. Che anni sono stati questi di parrocato? Anni di grazia che il Signato mi ha dato la grazia di servire Lui nella chiesa e nel posto dove il Signore mi ha ammesso, mi ha fatto la grazia di poterlo servire. Vuole ringraziare qualcuno in particolare di questi anni? Certo la comunità dove il Signore mi ha dato da vivere, tutti e in particolare ciascuno, anche con i problemi che grazie a Dio nella vita si presentano, dove si vede sempre la gloria di Dio quando c'è Lui, le difficoltà se il Signore le permette, le permette per manversare maggiore gloria che viene da Lui e ci partecipa nel tempo. Cosa è cambiato in questi anni nella comunità? Il Signore ha operato e nel contesto della storia e della tradizione, quello che a suo tempo ho trovato con il parroco tanto amato dal popolo del tempo, padre Spoto, e in quello che il Signore mi ha dato da servire. E Lui è la comunità, è in quello che la storia e la chiesa vive nel tempo e in quello che il Signore va donando nello spazio che ci concede, per restare alle cose semplici, il cammino neocatocomunale, le comunità che il Signore ha suscitato nella chiesa e nel contesto che il Signore mi ha dato di accompagnare. E poi anche la confraternità che è nata del Signore Gesù Cacifisso Risorto. Vuole lanciare un messaggio a padre Giovanni che inizia la sua missione? Tanti auguri che il Signore ci accompagna e nel tempo che ci dà di tematizzare nei momenti possibili e in quello che ci aspetta, in quello che ci aspetta dal Signore, tanti auguri perché possa continuare la sua opera nel campo dove è vissuto e nel campo dove ora il Signore lo mette a servizio della chiesa. E ora cosa farà Don Salvatore Nicoletti? Quello che il Signore ogni giorno mi darà da vivere. Il Signore dice non preoccupate di quello che mangerete o berrete eccetera. Ad ogni giorno il suo affanno. Cos'è la vita per Don Nicoletti? Un miracolo continuo. Il Signore ci sorprende sempre. Bisogna solo aprirsi alla sua prospettiva e nella fede vivere in quella dimensione che il Signore ha preparato cose che non si possono nemmeno pensare e dire. Ma che sono ricchi che vengono dalla prospettiva e dalla vita divina. Ciao. Ciao. Glaudio.